Musica Nasce il primo tavolo di lavoro sulle malattie reumatiche, una sorta di tavola rotonda che attiverà, d'ora in poi è per sempre un confronto e un dialogo tra i malati reumatici, le istituzioni Reumatology e AMARV, l'associazione malati reumatici del Veneto Onlos. La sua istituzione è un grande risultato che consente di portare l'attenzione di tutti sulle malattie reumatiche che colpiscono ben 5 milioni di italiani, di cui 700 mila veneti, soprattutto di sesso femminile e che hanno una frequenza pari all'ipertensione arteriosa e triple rispetto a diabete e malattie cardiovascolari. Che cos'è il tavolo di lavoro per le malattie reumatiche? Il tavolo permanente per le malattie reumatiche è una sorta di tavola rotonda in cui si confronteranno l'associazione malati reumatici del Veneto, le istituzioni e i reumatologi. Quali sono gli obiettivi del tavolo di lavoro? L'obiettivo principale è quello del reinserimento delle patologie reumatiche nel piano sanitario regionale dal quale sono state tolte. Chiederemo inoltre la riduzione delle liste di attesa e la diagnosi precoce e quindi l'accesso ai farmaci. Richiesto da Amarv e approvato e attivato dall'assessore alla sanità della regione del Veneto, il tavolo di lavoro cercherà innanzitutto di rendere il territorio più accogliente ai malati reumatici con la realizzazione di ambulatori specifici, cioè di primi punti di assistenza in modo da riservare i casi di difficile soluzione agli ospedali, snellire le liste di attesa e facilitare il consulto con gli specialisti reumatologi. I veneti che soffrono di malattie reumatiche sono circa 700.000 a fronte di una popolazione del Veneto poco inferiore ai 5 milioni. Sono numericamente superiori ai malati che soffrono di ipertensioni arteriose e quasi il triplo dei malati che soffrono di diabete mellito. Le malattie reumatiche sono numerose, sono malattie delle articolazioni e non delle articolazioni, dell'osso o dei tessuti molli. Fra queste ricordiamo la più comune che è l'artrosi, che però ha un'evoluzione piuttosto lenta, mentre è estremamente importante ricordare invece le forme infiammatorie delle articolazioni, vale a dire la tite reumatoide, la tite psoriasica, la spondilite anchilosante, che contrariamente all'artrosi ha un'evoluzione molto rapida e possono determinare, se non diagnosticate in tempo e non trattate adeguatamente, dei danni articolari irreversibili. Numericamente parlando, nel Veneto abbiamo oltre 50.000 malati di malattie infiammatorie articolari, vale a dire la tite reumatoide, spondilite anchilosante e la tite psoriasica, pari all'intera popolazione della città di Rovigo. Il tavolo di lavoro si adopererà inoltre per reinserire le malattie reumatiche nel piano sanitario regionale da cui sono state tolte, fare il punto sulle 120 malattie reumatiche, oggi riconosciute come tali, promuovere la diagnosi precoce e migliorare l'accesso alle terapie innovative come i farmaci biologici. In altre parole, cercherà di trovare soluzioni concrete che portino il malato reumatico a essere non un costo ma un investimento per la società. Il vantaggio del tavolo di lavoro per le malattie reumatiche sicuramente porterà un grande vantaggio. Sono vantaggi legati appunto alla prevenzione, quindi agli screening, che vengono attivati sul territorio, che sostanzialmente serviranno a individuare il primo possibile queste patologie per poterle curare nella maniera più corretta possibile ed evitare appunto innanzitutto il dolore fisico alle persone, ai portatori di queste patologie, ma anche risparmiare sull'eventualità di pensioni di invalidità, dove io credo sia importante innanzitutto, prima delle pensioni di invalidità, il benessere del paziente veneto. Grazie